Si può fare una partita di due minuti per gentil cortesia Aspetta, aspetta Ragazzi, un saluto a vostra startide e benvenuti su Rocket League Siamo ovviamente su quello mobile, Sideswipe Siamo insieme ad Amelia che le fa le proate e io faccio le cagate Questa è la differenza Allora, andiamo sul negozio perché ho visto che c'è una roba gratis Che dovrebbe dare ogni giorno Rivela gratis, cortesemente Grazie Triplex Quanto è carino questo Dobbiamo andare a vedere la nuova modalità di pallavolo Certo, non è proprio nuova perché è uscita da giorni Amelia me lo stava dicendo Ah sta, giustamente gli iscritti in live Ah sta, perché non fai la nuova mod di pallavolo? Andiamocela a fare Andiamola a provare Io mi sono giusto un po' allenato Prima di partire ho detto Amelia sono arrugginito Fammi fare una partita Infatti l'ho fatta una in duello singolo Ed è andata bene Vabbè, attento partiamo qua con bronzo E possiamo andare Allora, è iniziata Io non l'ho fatta ancora ragazzi Quindi non so cosa aspettarmi Sto vedendo robe strane No, non mi dire che qua bisogna saltare in aria Per far passare il pallone di là Amelia però mi sta dicendo Ah sta, devi fare così Ah l'ho fatto più putta Quello subito Ah me No sei addormentata Amelia Io non ci credo No Amelia No non ci credo Amelia perché ti sei addormentata con il lag? Vediamo se ce la facciamo Dai vediamo se riesce a ritornare Prima del tempo No? A me dimmi che ci riesci Mannaggia della miseria Aspetta aspetta Bravissima Amelia Bella giocata Quello riesce No 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 È ca... È ca... È bello che loro spinnano Fanno dicono Siamo tutti pro Di qua e di là E poi casino No mamma mia dai Niente Ah ma al di fuori invece non lo fa E io la faccio così allora Scusa Dai Eh Cata attacchi Non beh che sono giustificato che è la prima volta che si fa No Maledetti Maledetti Vai a Meliuccia impegnati Dai Dai che lo faccio io No È detto di là il pallone Aspetta piano Aspetta A me Ho bisogno di te Amelia C'ho problemi io nel volare Lo sai come sono fatto Dai questo dovrebbe essere Punto Buono Bravissima Amelia Niente vabbè Faccio giocare solo ad Amelia Io sto fermo Non faccio niente Aspetta aspetta Facciamo così No a me Dimmi che è andato di là Sì No Maledettissimi Però Attraversa la porta Da quella parte Va bene Meglio a sapere No Ragazzi Bravo La butto dall'altra parte Grazie Ci ha aiutato in questa maniera Beh Ah vero perché il pallone Deve toccare terra Altrimenti non se ne parla mai No vabbè Non ci credo Non è che me ti fa arrabbiare Che problemi Eh Avanti Dai Qualcosa di bello U pui pu U pui pu C'è lì che sta ridendo Perché l'ho detto in siciliano Ma se ci fai la cortesia Di non darci Apostoli e Gesù Che scesi in terra Cortesemente Ci dai persone inizia Già ci ha dato i due furgoncini Questo perché a me Li è altesimi Ma io non ci credo Ma cosa hai fatto Dai che ci arriva Affuranziato Ok dai Uno No aspetta Attenzione Vai a me Si cattiva Aspetta che alzo un pochino Il volume così L'ho sentito un po' di più Non so se riesco A prenderla Perché loro sono Un po' più veloci di me Infatti si vede Purtroppo sono più veloci No mannaggia Eh che bel punto Che ha fatto l'avversario In che senso Ce la facciamo? Allora va molto lenta Quindi non so No a me Che cosa hai fatto L'hai lanciata all'indietro No Mamma mia Tutti qua rimbambiti A parte io Io sono un casa a parte Niente ormai ci spinnano pure qua La gente No Quello ce l'ha parata Non ci credo No Aspetta No Si giusto ho fatto Eh però se l'hai portata a lui Quello struzzo malefico No 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 Ha preso la rete Che schifo Che schifo la rete Brava Amelia Così si entra col pallone No No dai Ci hanno abbandonato La partita Ma io veramente Ma perché Ah vero C'è Uppu Ippu Vicino Uppu Ippicendo sopra la macchina Ah ma per favore Se tu li fai scappare Il video Le partite mi durano due secondi Che abbandonano tutti Cioè ma che al contrario Dove è Ame? No niente Niente Quello ci ha ripensato Brava Amelia Ok Io sono Va bene Facciamo fare il punto Basta fare i cosi I trigger No i trigger I trick I trickered No no Ma io non capisco Se il loro compagno È contro O qualcosa del genere Non ho capito Perché gli para tutte le Bel punto che ci ha fatto L'ha preso proprio nella linea Sulla linea Bel punteggio Bravo Rocket Tir Va caga Io non ci riesco mai Ma invece no Aspetta No aspetta Aspetta Perfetto Meno male Che quello Non so se era Amelia Da sotto Se era un altro Non l'ho capito Fatto sta che ha funzionato Facciamo finta E la facciamo di prova Perché io sono rimasto In quella maniera Perché ero rimasto In aria Non lo so manco io A me ma che faccio Me ne vado in panchina È colpa mia Che non è andata Verso quella parte È colpa mia Tantissimo No 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 Che cosa ha fatto A me ma come Vabbè dai È giusto Dice se no scappano Sordi Non ti preoccupare Lo sappiamo Lo stai facendo apposta così Dai speranza di fare qualche punto Per poi fare Track Per evitare di dargli troppo fastidio Di conseguenza evito di andare a toccare il pallone Se vedo che sta andando comunque dalla loro parte Va bene No pure questi No mi sto rompendo Ma perché tutti Perché quittano Mi fate fare un video Dobbiamo fare 400 partite per un video Cortesemente Per gentil cortesia Cioè ma ma che devo fare Quello quitta a destra a sinistra Ma si può fare una partita un po' più lunga Di due minuti Non mi ricordo quanto dura Di due minuti esattamente Si può fare una partita di due minuti Per gentil cortesia Aspetta aspetta No schifoso che non sia altro che l'andata a parare da quella parte Bravissima Amelia Io non so come fa Amelia A tenersela nel muso La palla Le cose Le cose strane Che gli venisse la cagarella a quello Non si riesce Hanno fatto il punto Ma come cacchio fa a fare queste cose Perché nessuno me le insegna Anche io lo sto facendo adesso Si Allora piano 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 Comparsimonia Comparsimonia Piano pianino Tutti calmi Senza essere agito Tutti con la camomilla in mano Non ci sto a capire niente A me ma tu che marmittamonti Perché vedo che comunque vai più veloce di me Quale motore vai a montare nella macchina Vorrei anche capirle queste cose Guarda quello che ha fatto il punto No non l'ha fatto Ci ha rotto un cacchio Aspetta sto cercando in tutte le maniere di Aspetta Amelia Dai Tuffo Devo risolvere queste cose No Stavo dicendo Devo risolvere questa cosa della macchina Voglio andarmi a prendere Una cacchio di macchina Dai Dai No Maledetti A me A me no Ma perché nell'ultimo Dai che questa è persa L'ho capito Questa è persissima Aspetta Via 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 A me fai la magia Fai la magia Come come vuole Sì Sì io l'ho tolta da quella parte Che bello Sì L'ha fatto quello l'autogol E si vince Si porta a casa Queste sono le partite che vogliamo E che caspita Cioè proprio Ce l'ha fatta fare a fine video Ragazzi Per questo video è tutto Lasciate mi piace Iscrivetevi Commentate Condividetemi Sto facendo ridere Amelia Che fa avanti e indietro con la macchina La ringrazio assolutamente Amelia Per aver partecipato anche al video E per aver fatto tutto lei In descrizione trovate Instagram TikTok Followate per chi voleste iscrivermi Trovate anche il server ufficiale Discord del canale Mi trovate ogni giorno In live Con Brawl Stars Stumbleguys Clash Royale E Pokémon Unite Sempre alle 5 del pomeriggio È tutto Ciao 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 Ciao